Ciao a tutti, è Stelweb, qui X5Sara che parla, e oggi siamo qui con un nuovo video aggiornamento. Allora, come avete potuto vedere da... che giorno era ieri, scusa? Ieri era venerdì. Ho pubblicato un nuovo video, questo qui. E oggi che è sabato, voi ovviamente non vedrete questo video oggi, o beh, forse sì. Ho pubblicato su Horas Ita, adesso non è ancora pubblico, ma pubblicherò la nuova Clicklog. E sì, sono tornato dopo un mese d'assenza. Allora, lasciatemi spiegare perché questo mese d'assenza. Semplice, allora, prima di tutto, non so se l'ho citato negli ultimi video che ho fatto prima dell'assenza, ma... mi sono trasferito, sì, di nuovo. Stavolta sono sempre in una periferia di Londra, però sono più vicino a Greenwich. Sì, da quel che ho capito, sono più vicino a Greenwich. E ci metto due ore per arrivare a scuola, quindi una mattina proprio è un casino. E questo era il primo motivo, e quindi, ok, per i miei due o tre giorni non avrei potuto caricare i video, però... Scusa. Se tu vuoi trasferirti. Perché per i miei due o tre giorni non carichi video? E poi dopo per i miei resti non li carichi perché sono rotto in culo. No, perché se noi tipo andiamo... Oddio, ho tolto il link. Se noi tipo facciamo così, apre un'altra scheda... Adesso scommetto che me lo carica. L'ho detto io, io l'ho detto. Allora, come lo puoi dire? www.youtube.com Adesso me lo carico, ci scommetto. Vaffa a culo, va. Figura di merda. Comunque, in pratica, ciò che è successo è che mi doveva arrivare la nuova connessione, perché mi aveva deciso di cambiarla, il 24 marzo. È passato precisamente un mese e un giorno da quando doveva arrivare. Bene. Da quel giorno lì, non so cosa è successo, non so perché, secondo me non hanno avuto voglia di portarcele, quindi siamo finiti fino ad adesso. Più o meno. Proprio quando tipo... Verso i primi di aprile, cos'è sta roba? Ok, fa lo stesso. Cose a caso. Cheat bronzer. E in pratica sì. I primi di aprile mi è arrivata appunto il router. Mi ha detto che andava tutto bene, ok, e la potevamo usare. Cosa faccio? Metto il router. Lo facciamo tutto. Mi connetto, metto la password e... Impossibile connettersi al router. Ma allora siete spronzi. Cioè, ma allora siete spronzi. Non solo ce l'ho portata in ritacco, ma quando ce l'ha portata non funziona nemmeno. Ma bravi. Intanto roba cale fuori la camera mia. Spero che nessuno si sia fatto male. In quel caso lo sto registrando qui, non posso venire ad aiutare, sorry. Appunto. Sì. Dicevo. Ma perché io non mi scrivo le cose quando faccio i video tipo questi? Perché sono uno spronzi. Ecco perché. Eh, sì. Prima di aprile c'è arrivato il coso e quindi abbiamo anche deciso di cancellare... Cancellare l'abbonamento. Perché... Tanto hanno detto che sì, veniamo da sistemarlo. Sono passate due settimane e non sono venuti. Quindi abbiamo anche deciso di cancellarlo e proprio di farlo riportare. Doveva venire il 17 aprile e doveva arrivare. Hanno deciso di cambiare e mi è arrivato il 20 aprile. Bene. È arrivato il 20 aprile e tutto funziona. Per il primo giorno sì, tutto. Tutto funzionava, tutto funzionava perfettamente. Secondo giorno, non so perché, non so per come, mi bloccava YouTube. Proprio perché io qui nella mia barra di preferita, aspetta me, questa qui, questa qui che vedete. Ho... avevo YouTube qua in mezzo. E quindi quando lo cliccavo mi appariva una scritta che veniva bloccato da... Dal parental control o quella roba lì. E ok, ho detto, vabbè, magari mi blocca solo quel link. Ho provato ad accedere anche a queste cose. Mi bloccava tutto subito tra me il canale di Zex. Perché, tra l'altro, andate ad iscrivervi perché tra poco dovrei caricare... Do... cioè, ho il... Low disk paste. Lo so che ho poca memoria per questo sto cercando di renderizzarlo e proprio eliminare questo. Perché tra poco mi basta semplicemente editare questa roba qui. Fare anche quello per la storia, proprio basta. Pubblico e via. Sto andando off topic di nuovo. Cosa normale per i miei video ormai. Eh, in pratica mi bloccava tutto. E tipo ieri, proprio ieri, ho provato, dai, magari adesso si è tolto. Mi bloccava di nuovo tutto. Quando ho provato ad accedere con... Quando ho cliccato il link di Zex me lo dava normalmente. Quindi ho detto, ok, me lo dà normalmente. Vediamo se mi prende anche la pagina carica. Me la prendo e ho detto, subito a caricare il video di Seb. Cioè, video di Seb, guarda, semmai la lotta contro Seb. Che tra l'altro è... È con la roba HD. Quindi andate a vederlo. Perché sì, perché sì. Perché c'è HD, vedete. Non ho un 3DS capture, però dai. Meglio di ciò che avevo prima, no? 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 Comunque... Ehm... Ringrazio giusto... Ringraziarvi di così veloci. Allora, ringrazio Queen of the Sun per avermi fatto questo nuovo avatar di YouTube. Dove c'è Meloetta che sembra fare qualcosa di Scrum Nice Cavalier proprio top. 100% Upsetted. Upsetted? Mamma mia il mio inglese, quanto fa schifo certe volte. Ma Sorala continua a parlare in sottofondo, nonostante gli abbia detto di non urlare. Poi, ringrazio Red the Tube per avermi fatto il BG. Questo BG a tema Starny e Staryu. Molto... Molto faigo e molto stellare. Questa battuta non era... Non era voluta. L'ammetto che questa battuta non era voluta. Comunque... Ehm... Noi ci vediamo con un prossimo video e ciao a tutti. Silenzio... Bene.